Buonasera a tutti. Raccontare la giornata di un sindaco ai tempi del coronavirus è raccontare delle giornate stressanti, complicate, piene di situazioni difficili da risolvere, ma soprattutto giornate in cui gli amministratori devono stare a fianco dei loro cittadini. Infatti noi dal mattino alla sera fin verso le 19 siamo presenti in comune. Gli impiegati fanno prevalentemente lo smart working, tranne alcuni che svolgono gli servizi essenziali. Gli amministratori cercano di esserci sempre per rispondere ai dubbi, alle esigenze e alle domande. I giovani consiglieri insieme ad un gruppo di volontari hanno organizzato la spesa a domicilio, i farmaci a domicilio, adesso si sta studiando con la biblioteca di portare i libri alle persone che non possono uscire di casa, hanno organizzato merende virtuali, letture virtuali, insomma i giovani amministratori si danno anch'essi un sacco da fare. È sicuramente un periodo pieno di preoccupazioni sia per l'emergenza sanitaria sia per la situazione economica e i comuni, soprattutto i piccoli comuni come il nostro, io ho 4.300 abitanti, fanno fatica anche a trovare delle soluzioni. Noi ci auguriamo che insieme allo Stato e alla Regione si riesca a trovare il modo per aiutare soprattutto i piccoli negozi, i parrucchieri, i negozi di abbigliamento, tutti quei negozi che magari a stento sopravvivevano e che adesso si trovano in grandissima difficoltà. Però ci accomuna una cosa, la speranza, la speranza dei nostri concittadini e la speranza di noi amministratori, che tutto si risolva per il meglio. Noi stiamo lavorando per questo.